Ci siamo tutti? Abbiamo qualche definizione psicosomatica? Oggi facciamo un riscalamento molto interessante. Iniziamo a fare un discorso che ci aiuterà tantissimo quando dovremo fare delle cose, dovremo farci in qualche modo sentire. Quando prendete, andiamo a cercare i vari cui punti che suonano, che risuonano dentro di noi, ok? E andiamo a vedere che cosa succede se noi ad esempio facciamo arrivare la nostra voce dai piedi. Anche me? Anche me? Sì, sì, sì. Se noi andiamo a prendere gli angoli, oppure vediamo nella stanza dove siamo, noi andiamo dove siamo, andiamo dove sono gli angoli e volute, cercando di posizionare la nostra voce che vada più lontano possibile. Meglio, anche io ti sento! Perché te la faccio in direzione! Si trovano su un palcoscenico, ma nessuno dei due sa perché. Immaginate di essere del palcoscenico più grande che possiate immaginare, immaginate di essere alla Scala di Milano, immaginate di essere a New York, immaginate il teatro più bello che possiate immaginare. Lei si trova sul palco, ma non sa cosa deve fare, spera che lui lo sappia, ma anche lui non sa cosa deve fare e spera che lei lo sappia. Quindi cosa succede? Succederà che lei imiterà tutto quello che farà lui e lui viceversa imiterà tutto quello che farà lei. Queste parole vi dovranno suscitare qualcosa. Questo esercizio si chiama risposta alla domanda e perché si chiama così? Perché quando voi leggerete queste parole dovrete dare una risposta vostra alle parole, avendo una sensazione che è quella del gruppo che sa per venirvi a guardere. Grazie. 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 Grazie.